Ciao a tutti, oggi vedremo come fare un'installazione pulita di Windows. Ci sono tante strade per arrivare a destinazione, ma quella che vi mostrerò è secondo me sia la più semplice che anche la più sicura. Installazione pulita vuol dire Windows 11 così come è fatto, senza software di terze parti, senza bloatware, soltanto il sistema operativo nudo e crudo che poi potrete andare a personalizzare come più vi piace. Partiamo subito. Allora, come ho accennato nell'introduzione, ci sono tanti modi di fare un'installazione pulita di Windows. Ve ne farò vedere una e una soltanto perché è quella che secondo me dovete fare. È quella che merita di essere scelta rispetto alle altre perché ha praticamente pochissimi svantaggi. L'unico è che dovete per forza avere temporaneamente almeno una macchina con Windows sulla quale andare ad eseguire alcuni tool, ma a parte questo garantisce appunto la massima compatibilità, la massima sicurezza ed evita possibili problemi sia a livello della pennina USB perché possono esserci sì dei problemi se utilizzate magari tool di terze parti per andare a creare una pennina autoavviante, sia anche poi a livello di installazione perché sempre con sistemi di terze parti ci può essere comunque qualche problema in fase di installazione di Windows. Quelli che vedremo noi sono tutti strumenti ufficiali di Microsoft, quindi appunto il massimo della garanzia in questo senso. E vedrete che è tutto davvero molto, molto semplice e soprattutto richiede pochissimi minuti. Passo numero uno, andare su microsoft.com slash itt, software download Windows 11 e qui potete scaricare gratuitamente Windows 11. Quando poi andrete a installarlo vi chiederà il codice di licenza. Se non lo mettete la vostra copia di Windows rimarrà non attivata il che vuol dire che ci sarà sempre un avviso in sovrimpressione allo schermo che vi ricorderà di attivarla. Potete comunque comprare la licenza online, si trovano spesso a prezzi davvero stracciati, vi basta fare una ricerca su Google, non voglio entrare nel merito delle licenze di Windows se installarle, se comprarle o no, insomma quello fate voi. Vi sto solo dicendo che comunque questa parte qui non comporta alcuna spesa. Quindi la strada migliore ce ne sono praticamente due. Una, quella che non vi consiglio, è di scaricare direttamente l'immagine del disco e poi di andare a metterla sulla pennina tramite software di terze parti. Su Windows va di moda utilizzare Rufus, ma se comunque dovete utilizzare Windows allora tanto vale utilizzare la creazione di supporti e di installazione di Windows 11. Se poi non aveste proprio per nessun motivo una macchina con Windows sulla quale appoggiarvi allora ok, vale il discorso di scaricare la ISO dopodiché dovrete andare a creare una pennina autoavviante con i programmi che ci sono per il vostro sistema operativo che possa essere Linux o Mac OS. In ogni caso, penso sia difficile che non abbiate quantomeno un amico che possa prestarvi per qualche minuto perché ci vuole davvero poco un sistema operativo Windows. Allora, scaricate questo tool, come vedete ci è stato veramente pochissimi secondi e andiamo a eseguirlo. Possiamo anche già chiudere qua, non ci interessa più nulla lui farà alcune operazioni preliminari il contratto di licenza che ovviamente va accettato e a questo punto non c'è nemmeno da scegliere granché perché lui ci dice di utilizzare le opzioni consigliate ma comunque come vedete potete al massimo qui in questo caso andare a cambiare la lingua. Italiano, Windows 11 ci va benissimo. Vogliamo creare una unità flash USB in questo modo sarà subito tutto pronto all'utilizzo la dimensione minima è di 8 GB e a questo punto è il caso anche di ricordarvi che la pennina che andrete ad utilizzare e verrà completamente cancellata da qualunque altro tipo di dato ci fosse eventualmente al suo interno quindi ricordatevi che non ci deve essere niente al quale teniate. Ok, l'ha trovata. Come vedete è tutto un cliccare avanti, avanti, avanti alla fin fine, è veramente semplicissimo e cosa farà lui? Va a scaricare Windows 11 direttamente dal cloud in modo da avere l'ultima versione disponibile e una volta che l'ha scaricata andrà a installarlo sulla vostra pennina la velocità di download dipende chiaramente da quella della vostra connessione ma non è che stiamo parlando di scaricare centinaia di gigabyte quindi comunque con una DSL comune ce la farete benissimo. E vedete tutto da solo dopo aver scaricato la ISO ha creato o meglio sta creando il supporto di Windows 11 completamente in maniera del tutto autonoma nel frattempo potete continuare ad utilizzare il vostro PC per altre attività assicurate ovviamente che abbia carica a sufficienza ma appunto è una cosa se guardate l'orario di prima e l'orario di adesso che non porta via certo delle ore di tempo. 99%, 100% l'unità flash USB è pronta. Prima di chiudere il programma di installazione viene eseguita una breve pulizia c'è stato così poco che non ho nemmeno fatto in tempo a leggere tutto andiamo a vedere qua la nostra pennina dove ci sono i file setup, boot quindi questa è pronta per essere utilizzata su un PC senza Windows per andare ad installare Windows e adesso vediamo proprio concretamente come si fa. E quale migliore candidato per l'installazione di Windows di un portatile che proprio non ha sistema operativo? Questo è il framework Laptop 13 una vera chicca della quale vi parlerò prossimamente sul canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche se non vi volete perdere la sua recensione perché è davvero un portatile unico nel suo genere tutto quello che dovete fare indipendentemente che sia lui o un altro dispositivo è inserire la pennina USB e avviarlo normalmente il boot via USB è già abilitato dal BIOS solamente che di solito non viene sfruttato perché viene rilevato appunto l'SSD con il sistema operativo in questo caso quindi dovrebbe partire tutto Windows Installer Detected e partirà appunto l'installazione perché ha riconosciuto che sulla nostra pennina c'è proprio i file per l'installazione automatica di Windows questi comportamenti iniziali possono un po' variare tra un sistema e l'altro ma bene o male una volta inserita la pennina e una volta che l'ha riconosciuto partirà l'installazione di Windows con questa grafica che penso tutti abbiate visto almeno una volta nella vita se così non fosse dovete andare nel BIOS del vostro computer non posso essere io a dirvi come fare perché ognuno ha delle modalità un po' diverse e andare tra i dispositivi di boot e far sì che la pennina USB il boot via USB sia abilitato andiamo avanti da qui allora abbiamo italiano Italia layout italiano quindi ci va benissimo tutto installa direi che ci sono poche opzioni e abbastanza autoesplicative questo è il momento nel quale potete inserire il vostro codice PRODATKey se ce lo avete cosa che vi consiglio appunto di fare in questa fase se ne aveste uno e noi andiamo avanti dobbiamo poi accettare il contratto di licenza Microsoft e andiamo avanti allora queste due impostazioni ci servono nel caso in cui fosse già presente un sistema operativo la prima ci consente di trasferire file impostazioni e applicazioni già presenti in Windows questa opzione appunto è disponibile solo se già usi una versione di Windows supportata nel nostro caso non c'è nulla e quindi andiamo avanti e lo installiamo sul nostro SSD che è completamente vuoto lui ci dice via via che cosa sta facendo è la percentuale di completamento delle varie operazioni come vedete il resto dell'installazione prosegue praticamente in maniera del tutto automatica voi non dovete fare altro che controllare ogni tanto quando ci sia bisogno di un vostro input terminate poi tutte le fasi preliminari ci sarà da inserire username e password del vostro account Microsoft per configurare Windows ma quelle sono proprio le fasi finali come vedete adesso siamo ancora in fase preliminare ci vuole un po' di tempo ma è una procedura veramente molto molto semplice e lineare ok siamo arrivati alla fatidica proprio configurazione iniziale di Windows a questo punto dovrebbe essere anche già possibile togliere la pennina USB ma per scrupolo per il momento non lo facciamo in fondo non abbiamo nulla da perdere andiamo avanti configurando tastiera e in questo caso connessione Wi-Fi sempre utile non è del tutto necessario ma è meglio averla durante la prima configurazione anche perché Windows verificherà subito la disponibilità di aggiornamenti teoricamente non dovrebbe trovare nulla di che perché si tratta di una versione che abbiamo scaricato direttamente dai server di Microsoft ma non è detto che comunque fosse proprio l'ultimissima disponibile e quindi è giusto fare anche questa ricerca ogni tanto durante la configurazione vedete potrebbe esserci qualche riavvio non è niente di anormale aspettate soltanto che lui abbia finito tutto e seguite come sempre le istruzioni a schermo che tra l'altro come vedete visto che abbiamo scaricato Windows in italiano sono interamente in italiano e quindi facilissime da seguire e qui potete scegliere se configurarlo per uso personale oppure per uso aziendale quello dovete deciderlo ovviamente voi e qui è arrivato il momento di inserire l'account Microsoft ci chiede se vogliamo ripristinare Windows da un altro computer oppure se lo vogliamo configurare come nuovo dispositivo che è il mio caso lo selezioniamo qui chiede anche di creare un pin createlo ovviamente e qui decidete voi se fare utilizzare o meno la vostra posizione se attivare o meno trova il dispositivo sono tutte cose che non vanno a influire sulla configurazione stessa di Windows ma semplicemente sono temi relativi alla privacy e agli annunci pubblicitari al solito io non vi giudico qui possiamo poi andare ad aggiungere alcune applicazioni a livello di intrattenimento giochi, scuola eccetera se non vi interessano potete tranquillamente fare clic su ignora in ogni caso le potete aggiungere anche in un secondo momento possiamo poi decidere se attivare subito o meno la possibilità di utilizzare il telefono da Windows tramite connessione al telefono ma in questo caso per il momento non mi interessa se eseguire il backup dei file con OneDrive se salvarli soltanto in questo PC anche qui scegliete l'opzione che più vi aggrada sono tutte opzioni diciamo personali che non compromettono poi l'installazione del sistema operativo in sé e a questo punto praticamente ci siamo e così di punto in bianco eccoci arrivati a Windows potrebbe essere necessario lanciare magari un Windows Update controllare che tutti i driver del vostro dispositivo siano presenti perché non è detto che vengano correttamente riconosciuti allora in quel caso li dovete installare tramite software del vostro produttore quello non lo posso sapere ma questo è già Windows pronto all'uso è stato facile vero? se il video vi fosse piaciuto mi raccomando un bel like se avete domande fatele qua sotto nello spazio dei commenti da parte mia come sempre un saluto e alla prossima